Sì, quest'anno in tutta Italia si festeggia questa ricorrenza, noi qui a Foggia abbiamo avuto la fortuna, grazie all'amministrazione comunale, di avere questa splendida location del Teatro Giordano che ci consentirà di festeggiare al meglio in mezzo alla gente questa nostra festa. È un momento per noi importante, è un momento in cui si traccia anche la linea di quello che è stato fatto, il consuntivo delle attività intraprese e credo che questo processo di uscita dal tunnel della criminalità sia ben avviato e speriamo di poter riscattare a breve, in pochi anni questa provincia dal gioco della criminalità organizzata.